Però io ho proprio un suo audio che lui mi ha mandato su Whatsapp, che io ho rigirato anche a Laura, la redazione l'ha anche sentito, dove lui dice proprio chiaramente che all'inizio lui tutti avevano chiesto il suo numero, poi ne ha tenute tipo 7-8, da 7-8 ne sono rimaste 3, di cui ha detto una è falsa, riferita a Veronica, una è Fabio Volo de Poveri, riferita a Carlotta, e l'altra saresti tu, scusa Roberta, parole sue non sono mie. E l'altra è quella che è della serie, è la meno peggio lì dentro, perché lui ha bisogno di stare al centro studio tutte le puntate, sono parole sue, non è... Testuale? Sì, sì, come l'ho detto io, sì, poi dice sei scesa tu, le solite sue sviolinate, mi ha incuriosito, ti amo e ti adoro come la sanzia del pomodoro. Questa è la mancanza di rispetto Maria verso le donne, non quello che faccio io, che lo faccio comunque davanti a loro e le cose si fanno in due, questa è mancanza di rispetto. E mi fa girare le scatole, sai perché Maria? Perché l'altra volta mi ha attaccato a me, perché ho baciato due ragazze, e lo fanno vedere comunque che io bacio due ragazze, non è che sono stupido io. Io lo faccio nei confronti di Roberta perché la vedo abbastanza presa e mi dispiace che deve soffrire per una persona di cui non è vale la pena.